Quasi una partita d'allenamento per il Siderno che ne fa 4, rifila 4 reti a un modesto Lazzaro ed evidenzia grossi segnali di crescita fino alla tre quarti di campo. Già perché fino al proprio attacco il Siderno è apparso una macchina perfetta palesando soltanto qualche difficoltà in fase di ultimo passaggio anche se la nostra tesi viene parzialmente smentita dalla bellissima azione che ha portato Moio a segnare il terzo gol. Per il portiere del Siderno Misdea è stato un pomeriggio da spettatore specie quando la squadra ospite è rimasta in 10 all'inizio del secondo tempo per l'espulsione di Ielo per somma di ammunizioni. Al dodicesimo il Siderno passa già in vantaggio Tilo di Antonio Marulla dai 20 metri, deviazione vincente, gol sul quale il portiere Aneri non può assolutamente nulla. Il Siderno finisce il primo tempo in avanti e sfiora i raddoppi in diverse occasioni Al quarantaquattresimo Aneri esce alla disperata su Zerbi parando la conclusione ravvicinata dell'attaccante di Polistena Al quarantacinquesimo è Moio a mangiarsi letteralmente un gol che sembrava fatto tirando addosso ad Aneri Il gol però arriva prima dello scadere. Crosti De Leo, palla che carambola sui piedi di Zerbi il quale con un momento di lentezza riesce comunque a colpire la sfera in maniera efficace, quel tanto che basta per spedirla in porta. Primo tempo che si conclude sul 2-0 col Siderno che torna in campo con San Salone al posto dell'autore del gol dell'1-0 Antonio Marulla Siderno che subito segna il terzo gol Splendida azione manovrata in attacco Servizio di Zerbi per Romeo Cross basso per la corrente Moio che insacca da due passi L'impressione è quella che il Siderno possa assolutamente implementare la goleata e infatti al 25esimo Alfieri in proiezione offensiva sfiora il gol con un bel diagonale L'unica conclusione del Lazzaro, se così si possiamo definirla è un calcio di punizione abbattuto da Naviglia al 26esimo palla assolutamente centrale tra le mani del portiere Misdea Al 32esimo ci prova San Salone imbeccato da Romeo al 34esimo un cross di Moio per Morabito che spara alto e poi il gol del 4-0 dà un po' di gloria anche per Mario Fuda alla sua seconda marcatura stagionale così come quella di Zerbi Fuda indirizza il pallone in maniera tale all'angolino destro in maniera tale, dicevamo che risulta imprendibile per il portiere Aneri che rimane di sasso 4-0, Siderno quindi in goleata che rifila un bel poker alla 0 Siderno che però adesso è atteso dalla difficile sfida di Taurianova Grazie a tutti! Grazie a tutti!